...e non dovrebbe essere lui, lo fanno andare giù per una cosa che magari alla fine lui vede già che il terrazzino non era... ...si però l'acqua scende, ecco, cioè vabbè perché capita, perché la rita anche risale, ...e ciao! Grazie a tutti! 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 Due croati! In testa! Due croati! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate che gruppo. Grazie a tutti. Devo riprendere il gruppo di testa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 7.37F. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.